Valgono 14,9 miliardi di euro le rate di mutui e prestiti vari non pagate da quasi un milione di famiglie italiane, lo sostiene la Fabbi, indicando tra le cause delle insolvenze l'aumento del costo del denaro, l'incremento dei tassi e la corsa dell'inflazione, fattori che secondo il sindacato autonomo dei bancari riducono il reddito disponibile e mettono in difficoltà i clienti delle banche nel rispettare le scadenze relative ai finanziamenti, ammontano a 6,8 miliardi le rate di mutui non pagati, a 3,7 miliardi quelle del credito a consumo e 4,3 miliardi gli arretrati relativi ad altri prestiti personali. Secondo la Fabbi, 5,7 miliardi sono sofferenze certe, 7,1 miliardi sono inadempienze probabili e circa 2 miliardi sono rate scadute. A fronte di questa situazione, il segretario generale della Fabbi chiede maggiore cautela sui tassi e spera in un ripensamento sul rialzo annunciato per il prossimo 27 luglio. È ormai evidente, afferma, che l'azione della Banca Centrale Europea per contrastare l'inflazione non sta generando i frutti sperati. A suo dire, i prezzi non calano e l'aumento così veloce del costo del denaro sta provocando un rialzo dei tassi di interesse su prestiti e mutui che mette in difficoltà sia le famiglie che le imprese. Secondo la Fabbi, le difficoltà delle famiglie riguardano soprattutto i mutui a tasso variabile, particolarmente colpiti dall'aumento del costo del denaro, che ricorda il sindacato è stato portato da 0 al 4% in 11 mesi. Questa categoria di prestiti immobiliari vale in totale circa 140 miliardi e rappresenta un terzo del totale di 425 miliardi erogati.